Dopo la tornata elettorale regionale dell'autunno scorso, prima conferenza stampa della Lega e dell'On. Gianfranco Chiarelli. Dopo lo straordinario bagno di folla per la Lega con la visita di Matteo Salvini a Manduria, riparte proprio dalla città messapica l'azione di radicamento sul territorio della Lega. In apertura l'On. Chiarelli ha ringraziato il partito per la conferma a Vice-Segretario regionale Lega Puglia. Un importante riconoscimento, ha detto, dei risultati conseguiti nella recente campagna elettorale per le regionali ed uno stimolo per continuare, ancora con maggiore impegno, il lavoro per costruire un partito sempre più vicino e prossimo alle esigenze dei pugliesi. Dopo aver portato i saluti del consigliere regionale Conserva, impossibilitato a intervenire per improvvisi impegni personali, l'On. Chiarelli ha spiegato perché partire proprio da Manduria. Perché ritengo che Manduria sia una città, abbia una comunità, sia un circondario, che ha necessità di una presenza costante di un cambiamento rispetto a quella che sta del lungo periodo, non solo di commissariamento, ma delle dinamiche che si sono avute nelle amministrazioni precedenti. Abbiamo avuto un grande consenso, abbiamo avuto anche il nostro leader che è venuto qui a Manduria e mi ha raccomandato, non appena mi ha dato la nomina a vice coordinatore regionale, di non trascurare assolutamente questo territorio, in particolare Taranto, in particolare Manduria. Abbiamo espresso il nostro consigliere comunale, abbiamo una vice coordinatrice cittadina e componente dell'esecutivo provinciale che si attiva su questo territorio, stiamo avendo tanti consensi per cui l'attenzione sarà massima. Per quanto riguarda invece l'attività amministrativa, non siamo disfattisti, l'azione amministrativa è iniziata da pochissimi mesi, vi è in atto questa emergenza Covid che non consente purtroppo, sempre per colpa del governo regionale e del centro-sinistra, che non ha saputo gestire sicuramente questa nuova ondata, quindi non si ha la possibilità materiale di poter essere ancora più incisivi, però saremo sicuramente i vigili, i carabinieri su questo territorio, di quello che è il percorso che l'azione amministrativa andrà a fare. Denunzieremo con forza e senza nessun tipo di condizionamento le cose che non vanno, Manduria ha necessità di riacquistare una legalità che sia al centro di quella che è l'azione di governo, per cui siamo fiduciosi, ma noi saremo presenti anche con il nostro consigliere regionale su questo territorio che oggi purtroppo per motivi strettamente personali non è potuto essere presente, ma che vi garantisco sarà qua al fianco dei cittadini di Manduria. Lei ha anticipato già un commento negativo sull'azione politica regionale, che poi è quella che coordina dopo il governo anche tutta questa emergenza. Cosa possiamo dire in più, cosa criticate alla Regione Puglia? No, noi non critichiamo, noi vogliamo che i cittadini pugliesi si rendano solo conto che mentre vi era una nuova ondata in corso autorizzata superficialmente e anche in maniera veramente preoccupante dal governo nazionale, il governo regionale andava in campagna elettorale col suo assessore in pectore che al posto di prevenire quella che sarebbe stata la nuova ondata e che la nuova ondata consentiva invece di dedicarsi ad altre questioni che nulla hanno attinenza con le problematiche che oggi stiamo vivendo. Se solo si fosse fatto un bagno di umiltà, tanto Emiliano che lo palco, su quella che è stata la loro, diciamo, in preparazione ad affrontare questo tema o la superficialità meglio con cui è stata affrontata, io penso che i pugliesi ma anche la provincia di Taranto non si sarebbe dovuta trovare in questa situazione d'emergenza, emergenza di cui parleremo anche nella conferenza stampa dove vi è una sanità allo sbando, dove abbiamo proprio qua una struttura ospedaliera di covid e quindi di tutte le altre persone per le altre patologie non sanno dove andare. Abbiamo un'insufficienza di mezzi e di uomini per cui dobbiamo, è come se fossimo in guerra, dobbiamo solo fare di necessità virtù, cercare di insieme trovare una via d'uscita, speriamo che lo sia il vaccino, perché sicuramente gli uomini che ci rappresentano, tanto Emiliano, che lo palco hanno dimostrato di non essere all'altezza della situazione. L'onorevole Chiarelli ha parlato delle numerose proposte per superare alcune delle tante problematiche e criticità di Manduria. Ha citato quella del consigliere comunale Francesco Ferretti che sta incalzando l'amministrazione per sensibilizzarla ad impegnarsi nel ripristino della sede del giudice di pace a Manduria, in particolare stipulando una convenzione con il presidente del Tribunale di Taranto. L'avvocato Cinzia Filotico, vice coordinatrice della Lega di Manduria, ha parlato della situazione relativa alla sanità. Il Covid ha reso ancora più drammatica la situazione della sanità a Manduria, da sempre trascurata dall'ASL Taranto, trasformandola, ha detto, in un'autentica emergenza sanitaria, che interessa non solo Manduria, ma l'intero versante orientale della provincia. Cinzia Filotico ha concluso annunciando l'iniziativa della Lega di raccogliere le istanze dei cittadini e degli operatori della sanità di Manduria. È arrivato il momento, ha detto, che finalmente l'ASL Taranto prenda provvedimenti, aumentando l'organico del personale medico e sanitario, inoltre avviando un concreto programma di potenziamento del 118 e del Giannuzzi. In ultimo ha preso la parola il consigliere comunale Francesco Ferretti, che ha annunciato che due giorni fa ha presentato una mozione affinché il consiglio comunale modifichi il regolamento della zona industriale manduriana, inserendo la parola commerciale, così, oltre agli insediamenti di natura industriale e artigianale, potrà ospitare anche quelli commerciali. Negli anni passati, ha ricordato Ferretti, per questo motivo Manduria perse l'opportunità di ospitare un centro commerciale di primaria importanza andato a Mesagne. Con queste iniziative si crea occupazione sul territorio. Un altro punto del programma elettorale che Ferretti sta cercando di realizzare riguarda l'ampliamento del cimitero, mediante l'esproprio di terreni limitrofi, su cui far costruire loculi e cappelle, in modo da far cessare l'attuale situazione che favorisce uno spreggevole mercato nero sulla disperazione delle persone in lutto, così riaffermando un principio di legalità. Proteggeremo, ha concluso Ferretti, e rideremo dignità ai manduriani che vivono un momento doloroso della loro esistenza.